E' passato quasi un anno dall'inizio delle proteste di piazza contro la rielezione di Aleksandria Lukashenko, presidente della Bielorussia. Da allora ci sono stati arresti e azioni di repressione contro media e ONG. Negli ultimi giorni le autorità hanno compiuto perquisizioni e fermi di membri di organizzazioni non governative e di giornalisti indipendenti ancora in libertà o non fuggiti all'estero. Un atto dovuto ha sottolineato lo stesso Lukashenko. In questo paese abbiamo 2000 associazioni senza scopo di lucro ma gestite da persone poco affidabili, ha spiegato il presidente, questa non è democrazia ma solo un danno per lo Stato. Ci sono migliaia di persone che lavorano per queste ONG a cui è stato fatto il lavaggio del cervello con del denaro sporco. Immediata la reazione delle Nazioni Unite che hanno fatto sapere che da agosto ad oggi in Bielorussia sono state arrestate per ragioni considerate futili e legate alle proteste più di 35.000 persone. Una situazione definita preoccupante e complicata anche da Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione. In esilio da quasi un anno la Tikhanovskaya, che ora vive in Lituania, è stata recentemente negli Stati Uniti dove ha ottenuto numerose dichiarazioni di sostegno e appoggio al suo obiettivo e riuscire però a convincere Washington ad adottare ulteriori sanzioni contro Lukashenko.